Ci siamo, manca poco più di un mese alla maturità e la popolazione studentesca si sta spaccando in due fazioni. Chi fa notte sui libri e chi non se ne frega un cazzo. Qual è l'approccio migliore? Nessuno dei due. Non c'è bisogno di studiare, 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 studiare fino a diventare degli zombie, ma neanche passare i pomeriggi a giocare a Minecraft è l'ideale ovviamente. Ci vuole equilibrio e forse è anche un po' d'aiuto che posso darvi io con il mio nuovo videocorso appena uscito, ma di quello ne riparliamo fra un attimo. Prima vediamoci qualche aspetto generale dell'esame di quest'anno. Partiamo dal dubbio principale che assale sempre i maturandi, i requisiti di accesso all'esame. Con gli infiniti cambi a cui è stata sottoposta la maturità negli ultimi anni, le informazioni non sono per niente chiare, quindi è necessario un piccolo riepilogo. Partiamo con i requisiti per essere ammessi all'esame. Ci vuole la sufficienza in tutte le materie, anche in condotta. E prima ancora di ricevere una valanga di commenti su questo, sì, è possibile che il consiglio di classe vi ammetta anche con un 5 o 2, ma basarsi sulle ipotesi non è mai una buona idea. Prima della fine dell'anno è fondamentale almeno cercare di recuperare tutte le insufficienze, anche quelle lievi. Ci vogliono poi meno del 25% di assenze nei giorni di scuola, quindi occhio quanti giorni di lezione avete già perso e cercate di essere sempre presenti da qui alla fine dell'anno. Poi il curriculum dello studente. Dovrete inserire i famosissimi PCTO, ovvero le ex alternanza scuola e lavoro, attività extracurricolari, certificazioni linguistiche o informatiche, attività di volontariato. E fate attenzione a questo passaggio perché poi la commissione d'esame potrebbe prendere spunto dal vostro curriculum durante l'orale. Quindi inserite solo esperienze su cui potete spendere più di qualche parola, magari aggiungendo anche qualche riflessione interessante sul vostro futuro. Altrimenti meglio evitare. Poi le prove invalsi. E già lo sento il panico che cresce. Calma. Le prove invalsi non fanno media in nessun modo. Bisogna solo sostenerle, al di là del risultato. Se poi ci tenete a vedere che cosa ne penso io delle prove invalsi, ci sono dei video a parte. Ora, visti i requisiti per l'accesso, passiamo al tasto dolente. Le modalità con cui si svolgono le prove. Che cosa sarete chiamati a fare nella pratica? Le informazioni di base le conoscete già. Ci sono tre prove. Due scritte e una orale. La prima prova consiste nella scrittura di un tema. Il mitico tema di maturità. Chiaramente, se non l'avete già visto, vi consiglio di andare a ripassare qualche buona regola di cui vi ho parlato nel dettaglio in uno dei miei video più di successo di tutti i tempi. Per quanto riguarda la scelta delle tracce, vi troverete a scegliere tra due tracce per l'analisi del testo, una poesia e un testo di prova, tre tracce per il testo argomentativo e due per il tema di attualità. Quindi la struttura è un po' diversa da quella che era ai miei tempi, in cui c'erano cinque tipologie di traccia differente, con anche il tema storico e il tema libero. Voi ci avete la vita più semplice. Mi raccomando, prendetevi il tempo necessario per questa scelta della traccia. Chiedetevi se siete davvero in grado di costruire e sviluppare un'argomentazione solida. Non c'è niente di peggio di cominciare a lavorare su un testo che non va a parare da nessuna parte e rendersene conto poi quando manca solo un'oretta alla fine della prova. Disastro. Prova che tra l'altro, in totale, dura sei ore. Meglio spendere qualche minuto in più all'inizio, non ho tanto di tempo, ce n'è. La seconda prova invece si basa sulle materie che caratterizzano i vari indirizzi di studio. Per i licei e gli istituti tecnici è preparata dal ministero, mentre per le scuole professionali di nuovo ordinamento è decisa direttamente dalla commissione d'esame. Per quanto riguarda le tempistiche, la seconda prova può durare da un minimo di 4 ore a un massimo di 3 giorni, dipende da quanto è alto il livello di sadismo del vostro indirizzo scolastico specifico. La terza prova invece è il famosissimo esame orale con i suoi collegamenti interdisciplinari e la sua particolarità principale, cioè essere indefinibile. Sì, perché all'orale non si sa mai che cosa chiederanno i commissari, quali salti logici porteranno da un argomento all'altro e di conseguenza non si sa mai bene come prepararsi nel concreto. C'è molta confusione su questi punti. Ecco, in questa prova è fondamentale dimostrare non soltanto di avere piena padronanza delle materie, di aver studiato insomma, ma anche di sapere esporre in maniera chiara e coerente le informazioni. La commissione interroga 5 studenti al giorno, il colloquio dura circa un'oretta. Quindi è bene studiare attentamente tutte le strategie d'attacco. E anche qui il mio nuovo videocorso vi può dare una mano, ma ne riparliamo. Altra informazione cruciale, conoscere il nemico da sconfiggere, l'avversario che vi metterà alla prova, il boss dell'ultimo livello, la commissione. All'esame dovrete vedervela con tre commissari interni, tre esterni e un presidente di commissione esterno. I nomi dei commissari esterni vengono resi noti dal MIUR poco prima degli esami, quindi nei primi giorni di giugno. Ma un aspetto fondamentale da ricordare è che ogni insegnante può interrogare in tutte le materie per cui ha l'abilitazione. Sicuramente ci sarà già qualche passaparola su chi sono i commissari interni, quindi massima attenzione perché ogni notizia in più vi aiuta a capire su quali materie concentrarvi al meglio. Ultima informazione tecnica da conoscere riguarda il calcolo del voto della maturità, che ogni anno sembra un rebus di livello avanzatissimo che i professori non vogliono certo aiutarci a risolvere. Prima cosa da sapere, verranno considerati i voti degli ultimi tre anni di scuole superiori. In base alla media di ogni anno scolastico si accumulano una certa quantità di crediti formativi che poi si vanno a sommare al voto. Per riassumere vi lascio a schermo una tabella. Mettete in pausa il video, fate un bello screenshot e poi mettetevi a fare due calcoli. Le prove di maturità invece vengono valutate in ventesimi per un totale per le tre prove di 60 punti. Se poi si accede all'esame con almeno 30 punti e alle prove si arriva a ottenere almeno 50, quindi un totale di 80, si possono ricevere dalla commissione fino a 5 punti aggiuntivi sul voto complessivo finale. Per la loda invece bisogna essere ammessi all'esame con 40 punti e raggiungere 60 alle prove. Bene, ora che abbiamo fatto una bella panoramica generale sugli aspetti più burocratici, passiamo ai consigli concreti per la preparazione, perché questo è un periodo tosto. Lo so, ci sono gli ultimi voti da definire, le insufficienze da recuperare, ancora qualche giro di interrogazioni, i compiti in classe, le preghiere laiche indirezzate ai professori per alzare di qualche punto la media finale e poi c'è l'inizio dei ripassoni per l'esame vero e proprio. E mettere insieme tutte queste cose, incastrarle, non è semplice. Chiaramente in questa situazione, ancora più del solito, non possiamo lasciare nulla al caso. Serve un'organizzazione precisa che ci dica esattamente che cosa fare, quando farlo e per quanto tempo. Il mio primo consiglio è non forzatevi a sostenere dei ritmi troppo pressanti adesso e soprattutto non rinunciate mai in nessun caso al sonno. Per dare il meglio in questo periodo dovete essere riposati. Notte prima degli esami? No, solo preservando le vostre sacre otto ore di sonno avrete la lucidità e la prontezza mentale necessarie per spaccare l'esame. E poi curate tanto anche il vostro ambiente di studio perché dovrete passarci un bel po' di tempo nei prossimi giorni. Cercate di renderlo tranquillo, ordinato, minimalista, fate sparire tutte le possibili fonti di distrazione. Questi sono consigli che do anche agli universitari, ma per chi va a scuola e prepara la maturità valgono doppio perché il casino regna sovrano a 18 anni. E poi fate attenzione a non perdere troppo tempo prima di iniziare a ripetere l'esame seguendo un'organizzazione settimanale ben strutturata. Siamo a maggio, mancano quindi due mesi, un mese e mezzo, una cosa del genere a seconda di quando vedrete questo video. E da qui potete impostare un lavoro ben fatto, senza corsa dell'ultimo minuto. Da questo momento fino alla fine della scuola, oltre allo studio scolastico che ho portato avanti durante la settimana, potete iniziare a dedicare una giornata, magari la domenica, al ripasso per la maturità, tenendovi il sabato come invece pomeriggio, sera di riposo. In questo periodo cercate di non perdere mai il passo delle lezioni. Fate del male a voi stessi perché poi vi ritrovate a perdere una marea di tempo a ridosso delle ultime verifiche e in più rischiate anche di studiare male argomenti che invece dovreste fissare bene in mente in modo da non doverli ristudiare da zero in vista dell'esame. Dalla fine della scuola in poi invece impostate due sessioni di studio e ripasso ogni giorno, una al mattino e una al pomeriggio. Semplice, come fanno gli universitari. Ritagliate anche una o due mezze giornate per le simulazioni e soprattutto lasciatevi sempre comunque dei momenti di pausa per non massacrarvi, specialmente la pausa pranzo e il post pranzo. E per quanto riguarda l'ultimo consiglio finalmente possiamo parlare anche dell'arma segreta per questa benedetta maturità che sembra più un'apocalisse, il mio nuovo videocorso che in realtà è più una guida di sopravvivenza proprio all'esame di maturità. Si tratta di livello 100. Appena uscito dentro a questo corso troverete delle lezioni pratiche che vi accompagnano dai primissimi momenti di ripasso per la maturità fino al giorno dell'orale. Troverete tutto quello che vi serve per impostare lo studio, tenere sotto controllo l'agitazione, gestire le simulazioni, insomma l'obiettivo è farvi arrivare alla fine del corso senza neanche un minimo dubbio su come affrontare questo esame. Saprete come gestire ogni singolo passo da qui alla maturità per ottenere il miglior risultato possibile. Tra l'altro visto che noi lavoriamo qui in ADC sempre in piena trasparenza trovate il link in descrizione con il programma completo del corso. E già il corso costa poco, pochissimo, 90 euro ma c'è pure uno sconto fino al 16 maggio che male non fa. E insomma siete a un passo dalla fine della scuola. L'esame è la vostra ultima fatica, la libertà è in arrivo. Potete sopravvivere a quest'apocalisse. In realtà non c'è da avere paura di questo esame. Il messaggio che vi voglio mandare è un messaggio di serenità, di preparazione. Basta qualche accorgimento, basta una buona preparazione e una buona organizzazione e andrà tutto al meglio. Non mi resta che da farvi anche un bel in bocca al lupo che non fa mai male. è un messaggio Grazie a tutti